e morgan parlato settimana scorsa x factor ha fatto uno sgarbo a claudia mori oggi lo sgarbo lo facciamo noi a sgarbi vittoria al raffreddore una bella soffiata bella forte via ecco bravo fin qua tutto bene non è soddisfatto però pulisce bene intorno bene adesso diamo una controllatina le dita sono a posto vittorio no facciamo un po di manicure purtroppo però il mucolo perseguita e infatti deve cercare un po di spazio libero nel fazzoletto poi cosa fa sì no lo usa per poi che schifo non è che se lo mette in bocca ci pulisce il cellulare e se lo rimette in bocca no basta che schifo vittorio meno male che inizia a scap... e se lo rimette in bocca Grazie a tutti